Ebbene si ragazzi miei, penso che l'SMP500 tendenzialmente potrebbe fare un bel crollo nel 2021 Prima di iniziare però voglio ricordarvi che tutti questi contenuti qua sono completamente gratuiti Quindi se avete piacere di supportare il canale potete farlo tramite un like, un commento o un'iscrizione Tutti e questi tre strumenti permettono all'algoritmo di aiutare a creare tanto hype sul mio canale E' per questo che tendenzialmente se avete piacere di sapere quali aziende ho intenzione di vendere Lasciate un bel like che se arriviamo a 150 io magari nelle prossime settimane vi porto un video in cui vi mostro le aziende che appunto andrò a vendere La prima cosa sulla quale vorrei porre la vostra attenzione è l'aumento che ha avuto l'SMP500 nell'anno 2020 Se noi infatti andiamo a vedere qual è stato il rendimento dell'SMP500 solamente nel 2020 Possiamo vedere che dopo il crollo avvenuto intorno a marzo ha raggiunto i nuovi massimi all'incirca il 31 dicembre Stava come potete vedere a più 16% In un anno in cui come vi mostrerò adesso il prodotto interno lordo statunitense è diminuito addirittura del 7-8% Infatti nelle tabelline che vi sto mostrando potete vedere il GDP ovvero il Gross Domestic Product dei vari paesi Gli Stati Uniti hanno avuto un decremento di circa 1000 miliardi di dollari che è abbastanza tanto E nello stesso anno in cui c'è stato questo decremento qua l'SMP500 che diciamo dovrebbe rappresentare quello che è un po' l'economia americana E abbiamo messo il 16% e qua già c'è un discostamento fra economia reale e mercati finanziari A questo punto qua voi potreste semplicemente dirmi beh basta semplicemente che l'SMP500 fosse sottovalutato nel 2019 A questo punto qua semplicemente si è un po' allineato con quello che è l'andamento del PIL Allora un'altra cosa che possiamo vedere è utilizzando due indicatori andiamo a comparare quello che è l'andamento del GDP insieme al mercato azionario statunitense E dopo vi farò vedere anche l'andamento degli utili delle varie aziende del SMP500 rapportate alla loro capitalizzazione Un rapporto che utilizzo spessissimo io è il rapporto che c'è tra l'indice Wilshire 5000 e il GDP ovvero Gross Domestic Product degli Stati Uniti d'America Questo si chiama Buffett Indicator perché è stato uno dei primi investitori ad utilizzarlo Questo indicatore qua è semplicemente come vi dicevo un indicatore che mette a confronto la capitalizzazione totale dell'indice Wilshire 5000 Che semplicemente è un indice che raggruppa le 5000 aziende quotate in borsa negli Stati Uniti e le rapporta al PIL statunitense Considerate che il rapporto toccato nel 2000 e 2001 era del 136% Considerate infatti che è un indicatore molto semplice perché mette a numeratore come vi dicevo l'indice Wilshire 5000 E a denominatore semplicemente il GDP degli Stati Uniti ovvero il PIL degli Stati Uniti appunto Considerate che nel 2000 quando c'è stata la bolla Dotcom per chi non lo sapesse cercatela su Google Che è stata una bolla clamorosa per tutte le aziende inerenti all'internet Considerate che Tiscali era arrivata a valere mi pare tipo 120 dollari per azione una follia del genere Attualmente penso valga nemmeno un dollaro penso varrà forse mezzo dollaro forse E considerate che i valori attuali sono all'incirca gli stessi quindi un 129% di questo indicatore qua A me personalmente fa molta paura È ovvio che secondo me non va confrontato con queste percentuali qua Semplicemente perché tendenzialmente in quei periodi lì la crescita economica delle varie aziende all'interno del mercato azionario Era molto più bassa considerate che magari un'azienda che capitalizza come Alphabet o Amazon Che sono tra le più capitalizzate crescono a dei ritmi del 20-25% annuo Magari nel 1985 l'azienda più capitalizzata era magari ExxonMobil Che era un'azienda petrolifera che cresceva a ritmi molto più bassi Quindi diciamo che va preso un po' con le pinze Però ci dà già un'indicazione di quello che è l'ipotetico rendimento che potremmo ottenere Investendo attualmente nel Wilshire 5000 o nell'S&P 500 Il secondo indicatore che utilizzo spessissimo è il Shiller PE Ratio E l'indicatore ve lo consiglio anche perché va letto questo libro qua Ovvero Euphoria Razionale e vi spiega un po' quello che non dovete fare sul mercato azionario Il Shiller PE Ratio è molto semplice È molto simile a quello che trovate all'interno di ogni azienda Ovvero il PE normalissimo Infatti se noi ne andiamo a prendere per dirvi il PE di Amazon Possiamo semplicemente vedere la capitalizzazione totale Diviso gli utili che fa e vedete qual è il PE E' semplicemente il rapporto che c'è tra prezzo e utili Molto semplice Il Shiller PE Ratio è molto semplice È il PE delle S&P 500 Con una particolarità È aggiustato all'inflazione Considerate infatti che un miliardo di utili nel 1960 È completamente differente da un miliardo di utili nel 2020 Un miliardo di utili nel 2020 vale molto di meno Quindi questo indicatore qua semplicemente tiene in considerazione anche dell'inflazione Considerate che il PE attuale dell'S&P 500 Scusate il Shiller PE È di circa 35 Durante la bolla .com era all'incirca 45 E questo vi dà già un po' un'indicazione su quello che Come vi dicevo potrebbero essere i rendimenti dei prossimi anni Considerate che più è alta questa curva qua E tendenzialmente minori saranno i rendimenti Perché di fatto nel momento in cui tu compri un indice sopravvalutato Tendenzialmente è molto più difficile andare a guadagnare dei bei soldi Perché vorrebbe dire che l'indice nei prossimi anni Crescerà molto di più rispetto a quello che le persone si aspettano A questo punto voi giustamente mi chiederete Beh ma scusa ma allora cosa pensi di fare? Di vendere tutte le azioni? E io vi dico no Infatti come potete vedere io sono un investitore a lunghissimo termine E quante volte l'S&P 500 è stato sopravvalutato E quante volte magari persone hanno deciso di vendere completamente il portafoglio Per entrare a prezzi più bassi e poi non ci sono mai riusciti Infatti come potete vedere questo è il grafico dell'S&P 500 Per dirvi nel 2000 l'indice era a 1400 praticamente E attualmente è stata a 3900 Questo vi dà già un'indicazione sul cercare di fare timing nel mercato Che per me è follia Questo non vuol dire però che io tendenzialmente andrò a vendere delle posizioni Che reputo molto sopravvalutate E sulle quali tendenzialmente secondo me non c'è troppo margine di crescita Questo lo faccio perché a mio avviso ci sono tutti i presupposti per un possibile crollo Ovviamente non è che andrò a vendere tutto il mio portafoglio Non venderò nemmeno il 10% del mio portafoglio Però questi indicatori qua mi pongono l'attenzione sulle aziende Che tendenzialmente potrebbero effettivamente essere vendute E permettermi di fare un po' di liquidità Che mi andrebbe a soddisfare nel caso in cui appunto ci fosse il crollo Io potessi entrare su aziende molto più interessanti A prezzi molto più interessanti Detto questo ragazzi miei questa è la mia valutazione Vorrei che questo nei commenti mi diceste la vostra Fatemi sapere anche se questi tipi di video qua vi possono interessare Sono video un po' più economici Detto questo ragazzi miei io vi ricordo sempre di lasciare un bel like, un commento E niente ragazzi ci becchiamo al prossimo video E come vi dicevo sempre Passate a fare gli abbonamenti perché stiamo crescendo a dei ritmi spaventosi Penso che tutti gli abbonati siano soddisfatti E niente ragazzi io spero che questo video qua Come sempre vi sia piaciuto lasciate un bel like, un commento E niente ragazzi ci becchiamo al prossimo video Ciao